Allora, MVP, MVP della stagione lì. Calciatore, Simone Inzaghi. Ok. Poi è escluso... Perché Simone Inzaghi? Perché ha fatto rendere tutti oltre il pensabile. Cioè io penso a Marcus Turamma, di cui ripercorrevamo poco fa in redazione, gli 11 gol. Due nel derby, due alla Roma, con la Juve procura l'autogol di Gatti e fa assist dall'andata. Gol a Napoli, gol alla Lazio. Decisivi a Torino 1-0 per lo sbloccare una partita contro il Toro, molto difficile. Tutti i gol pesanti e anche belli in alcuni casi, quello di stasera, quello all'andata. Non è secondo me un grandissimo attaccante. Cioè è uno di quelli che ha reso molto più di quanto si pensasse di quello che è. Perché non è nemmeno più giovanissimo, ma la cura Inzaghi, il suo lavoro di artigianato puro, ha migliorato tantissimi giocatori. Pensiamo a Di Marco, che è un po' l'emblema di questo discorso. C'ha la Noglu, trasformato in un regista eccezionale in un anno. Tutti i difensori, che sono i difensori ormai completi anche a livello internazionale. Penso a Bastoni, penso... Ma anche a quelli che giocano meno. Bissek è un giocatore che comunque quando è stato mandato in campo è stato un giocatore all'altezza dei titolari. E così via. Insomma è un allenatore che chiaramente ha avuto stagioni difficili negli anni scorsi. Quella di due anni fa penso sia stato un incubo che l'ha tormentato. L'ho scusato perso con il Milan. Qui si è preso una rivincita spettacolare e di sicuro meriterebbe un ritocco all'ingaggio. Beh, credo che arriverà. Credo che arriverà. All stuff.